Falliti tre volte Chi, il finanziario e benesti, ha cura di WB. Dopo una vita di grandi spese e commerci, Benny e Alessandra erano rimasti senza un soldo. Negli ultimi dieci anni erano falliti tre volte. La prima volta Benny, la seconda Alessandra, e la terza il più grande dei loro figli, cui avevano intestato la titolarità della loro impresa. Adesso avevano perso anche la proprietà di una vecchia conceria, dove vendevano piastrelle di lusso. L'edificio era stato espropriato per accogliere una comunità di ex-drogati. Erano rimasti i vestiti usati, che Alessandra vendeva la domenica negli alberghi di lusso, ma questo era un commercio in cui bisognava anticipare denaro per comprare stocchi importanti. E Benny e Alessandra non riuscivano a decollare. Mantenevano però un interesse per la vita, una grande voglia di lottare, che non li faceva mai pentire di avere vissuto come splendide cicale. Alessandra partecipava da sola alle riunioni di studio, perché Benny si teneva lontano dall'insegnamento dei maestri, come chi teme di dover accettare l'ordine perfetto della vita. Tuttavia, da ex costruttore, si chiedeva spesso a che cosa avrebbe condotto il progressivo inquinamento della sua città e, in senso più lato, del pianeta. Un disastro, si rispondeva sempre e si rispose così fino a quando Alessandra non gli fece leggere questo brano. Cerchio Ifior Si potrebbe dire che, se veramente per la nostra evoluzione fosse necessario traversare una fase in cui il vostro pianeta diventasse una palla d'acciaio e di cemento, per quanti sforzi e movimenti poteste fare, questo andrebbe in quella direzione. E allora, così come già per altre esigenze e in altre occasioni è accaduto, non potrebbe accadere altro che l'individuo, un po' alla volta, sotto le spinte del tappeto acasico, modificherebbe il fisico dell'essere umano, portandolo ad essere in grado di sopravvivere anche in quelle condizioni. Così come, d'altra parte, accade in certi posti già a diverse persone che affrontano o vivono condizioni particolari per cui hanno bisogno di avere determinate condizioni fisiologiche.